I volontari a Caritas Ticino svolgono compiti di vario tipo, una buona parte collabora nella gestione dei negozi e boutique, altri sono impegnati in un sostegno sociale diretto e c'è poi chi sostiene l'attività tecnica, informatica e televisiva. Sono un centinaio i volontari esterni a Caritas Ticino che collaborano regolarmente e a questi si aggiungono diversi operatori professionisti della nostra organizzazione che danno il loro tempo extra lavorativo per contribuire a realizzare cose altrimenti impossibili, come ad esempio questa trasmissione televisiva che va in onda da 11 anni. Ma per capire cosa sta dietro alle scelte del volontariato che Caritas Ticino promuove, abbiamo chiesto a Graziano Martignoni, in questo caso volontario di Caritas Ticino anche lui, di aiutarci ad approfondire alcune affermazioni per noi fondamentali di questa dimensione essenziale dal profilo culturale, prima che sociale in senso stretto. Un direttore di Caritas italiana qualche anno fa disse una frase provocatoria che mi era piaciuta molto per definire il volontariato e il suo obiettivo di fondo, disse che il volontariato ha come obiettivo quello di scomparire perché si deve realizzare una società dove tutti sono volontari. È una provocazione ma credo sia anche sostanzialmente una sorta di linea programmatica perché ribalta completamente l'idea che normalmente abbiamo nel volontariato, cioè che più c'è volontariato e più c'è solidarietà. Questa idea che invece il volontariato ha un compito quasi profetico per una società che deve diventare tutta di volontari e poi i gruppetti devono sparire. Io direi che è una provocazione in qualche modo progettuale perché vuol dire che su questa provocazione si deve costruire un cambiamento di sguardo sul tema generale dell'aiuto, della cura e poi sul tema generale anche della fragilità dell'uomo perché le cose vanno insieme naturalmente. Allora per affrontare questo nodo e forse poi per dare un po' di contenuto a questa provocazione è importante fare alcune premesse. La prima è una premessa come dire presa da un testo nobile, antico e secondo me fondamentale per ragionare su queste cose che è la parabola del buon samaritano, a tutti conosciuta. Poi il buono non so se è necessario aggiungerlo, mi basterebbe il samaritano per stare nella linea, non bisogna essere particolarmente buoni, bisogna essere semplicemente uomini e la cosa che vorrei sottolineare è questa, nel tragitto del samaritano c'è un percorso che va da Gerusalemme a Gerico, allora usiamo queste due città, queste due località come metafore, la metafora del sapere, Gerusalemme dove si radunano i dotti e la metafora della strada, in qualche modo della quotidianità più cruda che è Gerico, che è città dei commerci, città degli scambi e su quella strada che è poi la strada che tutti noi pratichiamo quando lavoriamo con gli altri, quando ci impegniamo nell'assunzione di una responsabilità nei confronti dell'altro, quando individuiamo i bisogni di aiuto, di cura, loro e nostri insieme, è una strada che frequentiamo tutti i giorni, a volte ci fermiamo a Gerusalemme o a volte privilegiamo Gerusalemme e a volte siamo invitati invece a pensare a quello che capita sulla via di Gerico e cosa ci dice il Vangelo? Che è un testo che al di là del suo valore religioso è un testo psicologico incredibile, psicologico nel senso che è un testo che racconta la vicenda dell'uomo e quindi è un testo che al di là della fede che può accompagnare la lettura di questo testo, è un testo di un'attualità incredibile, dice il samaritano, uomo da nulla, uomo della quotidianità persino anche un po' emarginata, però esplagniste, venne mosso dalle sue viscere a occuparsi di colui che stava sulla strada e questo è il primo grande gesto, ovvero la rivoluzione che avviene sulla via, la sovversione che avviene sulla via di Gerico è quella che non basta più, i saperi che vengono contenuti nel Tempio o i saperi che vengono contenuti nelle accademie. Dunque è come se la professione, che la parola stessa dice mettere davanti la propria competenza, come si dice oggi, le proprie conoscenze, le proprie tecniche, la professione viene in qualche modo capovolta e si torna a ciò che sta dietro, che io chiamerei la vocazione. C'è qualcosa che ti chiama, ora questo qualcosa può essere per ognuno di noi diverso, ma certamente il veicolo di questa chiamata che è alla base, a mio modo di vedere, di qualsiasi relazione d'aiuto, perché se la relazione d'aiuto o di cura non ha questo cuore, non è, è altra cosa. Questa chiamata che ti è testimoniata, ti è veicolata, ti è portata da quell'altro che ti sta di fronte e che chiama qualcosa in te, forse chiama il tuo stesso bisogno d'aiuto, richiama alla luce la tua stessa fragilità ed è in questa sorta di, come dire, condivisione di destino che nasce l'incontro, di cui il volontario, che sicuramente è più vicino a Gerico che a Gerusalemme, il volontario rappresenta, come dire, un'esperienza privilegiata. Allora, per tornare alla domanda, la dimensione volontaria è su un piano collettivo, su un piano societario, il richiamo al fatto che noi siamo dei fratelli, questa idea di fraternità. Io credo che l'antropologia cristiana, accanto a altre antropologie che sono dibattute in questo occidente, l'antropologia cristiana introduce un elemento, come dire, specifico, che è il tema della fraternità e la fraternità è quel legame di comunità che fa che siamo tutti o dovremmo essere tutti volontari, chiamati, avere tutti noi una vocazione all'aiuto, perché questa vocazione all'aiuto non ci nasce dall'essere buoni, dall'essere così in qualche modo eroi, generosi, nasce dalla nostra stessa fragilità. È nella nostra fragilità che noi cogliamo la necessità intrinseca di essere chiamati all'altro, un altro che è fuori di noi, certo che è colui che ha bisogno, colui che semplicemente ci interpella, colui che in qualche modo vive uno stato di sofferenza e chi più ne ha più ne metta, ma questo incontro con questo altro non sarebbe possibile o sarebbe artificioso, sarebbe in qualche modo del tutto falso se non passasse attraverso l'incontro con questo altro che sta in me. Si dice sempre, sai, lo straniero che sta fuori è null'altro che l'immagine dello straniero che ci abita e solo se incontro il mio straniero, solo se incontro questo mio altro fragile, io sarò in grado di sentire la chiamata, la vocazione all'incontro con l'altro. Evidentemente una società solidale, fraterna, che riscopra nei tre grandi valori della rivoluzione francese quello forse più dimenticato, perché c'è sempre stato chi ha difeso la libertà, chi ha difeso l'uguaglianza, più difficile, meno eroico, più quotidiano, più domestico, più intimo è quello della fraternità. Allora è evidente che la pratica del volontario, l'atto dell'aiuto volontario, la dimensione di questo volontariato che è vocazione, che è dono, che è gratuità, diventa come dire la linfa, diventa la circolazione sanguinea di una società vivente, di una comunità vivente e questa comincia col vicino di casa, comincia con le comunità, con le attività del tuo luogo di vita, non è mai un atto eroico, è un atto che rende eroica la quotidianità. L'immagine che costantemente noi incontriamo quando parliamo di volontariato è quella della risposta a un bisogno, ci si chiede di rispondere a dei bisogni e ci si chiede di rispondere a dei bisogni generosamente, allora alla fine questa diventa un po' l'immagine, l'immagine del volontario, ma addirittura l'immagine per dire della Caritas, dei professionisti della Caritas, noi rispondiamo a un bisogno. Sempre per continuare in quella linea di provocazione, mi piace dire che invece l'unico motivo per il quale io devo fare un gesto di solidarietà e di volontariato, l'unico vero motivo è che lo faccio per me stesso, se non lo faccio per me stesso, che sembrerebbe un paradosso, il gesto di volontariato perde completamente di senso e di prospettiva, come mai è così difficile far passare questa idea? Perché è veramente difficile? È difficile perché mette in crisi un parere comune, un'idea comune, per cui come tu dici il volontario nasce quando c'è un bisogno, questo bisogno o risponde il professionista o risponde il volontario, poi tra le due cose oggi c'è anche molta confusione, perché poi si tende a rendere semiprofessionista il volontario, insomma c'è una sorta, bisogna pur dirla, adesso poi rispondo meglio alla domanda, ma c'è una sorta di professionalizzazione del volontariato che mi pare per me, lo dico con molta tranquillità, mi pare una delle cose peggiori, perché quel volontario non sarà mai un professionista, non sarà mai una persona che avrà in qualche modo l'acquisizione di tecniche, di conoscenze e poi gli facciamo perdere invece quella dimensione che potrebbe in qualche modo animare o rianimare persino il professionista, perché il professionista che lo è divenuto sulla base di una, come dire, chiamata, questa è una cosa anche che non piace a tutti. Io, come tu sai, insegno in una facoltà che si occupa di formare degli operatori sociali e dove chiaramente si mette molto l'accento sulla acquisizione di competenze professionali, ci mancherebbe, si mette molto l'accento sulla crescita di queste competenze, di queste conoscenze, eccetera. Io richiamo sempre, a volte ascoltato, a volte meno, richiamo sempre che alla base di questo c'è una dimensione vocazionale, perché dire questo è complicato oggi perché si chiama subito gli antichi, le antiche vocazioni, insomma la tradizione religiosa o parareligiosa del lavoro d'aiuto, però invece su un piano psicologico la cosa per me è molto chiara, non riconoscere questo vuol dire amputarsi di una risorsa vitale, è come se ci amputassimo di almeno una parte del cuore. Poi la mente, il cervello, ce lo costruiamo nella formazione, eccetera, però un cervello senza cuore fa un operatore burocrate, un operatore funzionario, un operatore, come dire, inerte. Allora, per tornare alla questione, è chiaro che è molto sovversivo dire una cosa come tu hai detto, perché in genere si aiuta un altro che ha bisogno di te e già dentro questa sorta di legame c'è il rischio in qualche modo di considerarti tu possessore di qualcosa che l'altro non ha e l'altro in una condizione di, come dire, come chiamarlo, di inferiorità, di bisogno, il bisognoso. Ora, stiamo molto attenti, io ho detto prima, no, attenzione, noi aiutiamo l'altro perché in realtà scopriamo, dialoghiamo con un mendicante che sta dentro di noi, con un povero che sta dentro di noi. Ora, se tu non ti riscopri povero, non ti riscopri mendicante, non ti riscopri esule o esiliato su questa terra, non potrai aiutare qualcuno, se non in forme, come lo dico, in forme inerti, in forme magari tecnicamente corrette, ma umanamente povere, deboli, fragili. Allora, questa è una rivoluzione, come chiamarla a dire, di sguardo assolutamente profonda. E allora ritornare a dire, riconosci che nell'aiutare l'altro tu fai un'opera in qualche modo di, come dire, di ripresa di contatto con te stesso. E questa ripresa di contatto è quella dimensione che ti permette di fare del volontariato proprio una, come dire, dimensione della tua quotidianità. Non una dimensione particolare, una dimensione della tua quotidianità. Io ho avuto molto a che fare, per varie ragioni, con dei volontari di vario ambito. E spesso arrivano a fare il volontariato delle persone che sono, come dire, senza uno scopo della vita. Sono persone che hanno finito il compito di fare la madre perché i figli grandi, sono persone che sono un po' messe fuori dal mondo del lavoro. Insomma, cercano un senso alla vita. Allora, in realtà, certo, il senso della vita è aiutare qualcuno, dare la propria disponibilità a qualcuno. Io faccio sempre un lavoro con loro che è quello di tornare a sé. Il senso della vita non lo trovi nell'altro. L'altro ti fa da specchio. Il senso della vita, il senso della tua umanità, che tu pensi di mettere a disposizione di qualcuno, deve essere ricostituito dentro il tuo giardino interiore. Solo quella è la garanzia che tu vai a ritrovare dentro di te, per esempio se sei una persona di mezza età, vai a ritrovare i tanti te che ti sono costruiti nel corso della vita. Noi abbiamo, come dire, una biografia fatta di molti me, di molti incontri, di molte figure che stanno dentro questo grande teatro che è il nostro mondo interiore. Ecco, attraverso quel dialogo io costruisco, ritrovo il filo di questa sorta di bisogno, di necessità, per me, essere umano, di incontrare, cioè trovarmi con qualcuno, uscire dalla mia, come dire, dalla mia dimensione solipsistica, che poi è una dimensione che mi impoverisce, come molte persone si sentono impoverite, per ritrovare un alimento che è come, di nuovo, come un circolo virtuoso che si stabilisce tra me e l'altro, tra me e il mondo. E questo circolo virtuoso, dopo un po', io non so più se mi viene da me o se mi viene dall'altro. Non so più bene che cosa effonda questo circolo virtuoso, una parola che nel lavoro d'aiuto e di cura è vista di nuovo molto con perplessità, la parola amicizia. L'amicizia è una delle cose che appartiene alla fraternità. I fratelli sono a volte amici, nemici, ma stanno nell'ordine dell'amicizia, non stanno nell'ordine dell'amore eros, stanno piuttosto nella filia. Allora, se la vocazione era in qualche modo la tendenza a questo dono gratuito, agapè, a un certo punto questo si diventa, perché nella comunità lo diventa, amicizia, filia. E che meravigliosa società sarebbe se noi alimentassimo la vita collettiva, comunitaria, di, e qui torno all'inizio del nostro discorso, di questa provocazione, quella di far diventare il gesto volontario, il gesto volontario, la condizione di questo ritrovamento di una filia, di un'amicizia che lega gli uomini. È una società utopica, forse, è una società utopica, perché naturalmente questa società contiene anche, come tutte le comunità, contiene anche la sua ombra, contiene anche le sue forze più negative, però sarebbe un antidoto potentissimo. Mentre le ombre diventano invece dominanti quando alla solidarietà fraterna, all'amicizia si sostituisce l'individualismo dell'azione, il solipsismo, persino il tecnicismo dell'intervento d'aiuto, questo magari risolve il problema di un minuto, non risolve quel problema che spesso è dietro ai problemi di un minuto, che è il problema del senso della vita. La risposta al bisogno direi che è quasi un effetto collaterale, di una impostazione del rapporto solidale, non è l'obiettivo, ma è un effetto collaterale, uno degli effetti positivi. Mi viene da dire che se l'obiettivo per il volontario, come per tutti quanti noi che abbiamo la possibilità di essere volontari, perché non bisogna appartenere a nessun gruppo, bisogna solo vivere una dimensione personale nelle cose normali che si fanno. Bene, questa possibilità di essere tutti volontari e vivere una dimensione di solidarietà, approfondirla, trovare le forme giuste per esprimerla, viene da dire che è non la forma per essere buoni, ma l'unica forma per essere intelligenti, perché l'unica credo possibile società che ha futuro è una società che ha l'elemento della solidarietà come uno dei pilastri. L'etica è l'unica forma che ha futuro. Allora, se io vivo una dimensione di solidarietà, una dimensione etica nella mia vita, che poi mi metta l'etichetta di volontario o non me la metta, io non sto facendo nulla di buono, di eroico, ma la prima cosa che sto facendo è l'unica cosa saggia, sana e intelligente, perché è l'unica cosa che dà speranza a me, ai miei figli e ai miei nipoti. Sì, e la parola etica ci sta proprio, perché bisogna coglierne l'etimologia. Etos viene a un rapporto etimologico stretto con la parola greca oikos. Oikos vuol dire casa, dimora. E dunque essere etici vuol dire occuparsi della casa, quindi occuparsi della quotidianità, delle piccole e grandi cose della casa, del tuo shetua, in cui tu abiti e l'altro abita. E poi straordinariamente la parola etos ha un legame etimologico con la parola etairos, che vuol dire compagni, fratelli. Allora vediamo che la parola etos, etica, non è un insieme di dogmi, di norme, al massimo questo è la morale, è i mores, i costumi, non è questo, è questa dimensione che dice che la condizione dell'uomo, che è una condizione amputata, noi perché abbiamo bisogno degli altri, perché siamo uomini trascendenti, nel senso che siamo aperti e bisognosi degli altri fin da quando siamo piccoli nascituri, perché siamo amputati, perché siamo manchevoli. Se noi non fossimo manchevoli, se fossimo autosufficienti, come oggi si dice uno dei grandi miti della nostra contemporaneità è l'autonomia, l'autodeterminazione, che sono bellissime parole, solo che contengono il rischio di negare un fatto fondamentale, che noi in realtà vorremmo essere autodeterminati, autonomi, però senza riconoscere che siamo invece dipendenti, che siamo bisognosi, che siamo manchevoli, da qualche parte entriamo in un circolo vizioso. Allora voglio dire ritornare alla dimensione, al concetto più profondo della parola etica, vuol dire che il volontariato, questa pratica, questo gesto, questa attitudine che è dentro il professionista anche, non è una categoria, io sono contro l'idea, i volontari, i volontari sono, è un'attitudine, è un modo d'essere, è un modo di fare che può appartenere al professionista, anche il più raffinato e il più specialista e può appartenere alla persona più lontana dal campo di cui stiamo parlando, quindi è qualche cosa che attiene all'ordine di una maniera di fare, una maniera d'essere, una maniera di sentire, direi. Ecco, allora tutto questo è etico e se è etico perché coniuga la casa ai compagni, ai fratelli, è evidentemente una società che dimentica di curare la casa in tutte le sue forme, che dimentica di ascoltare, di accogliere, di ospitare, il tema grande della ospitalità, di ospitare i fratelli, è una società smarrita, è una società da qualche parte destinata alla sua perdizione, ovviamente, è una società che sta male e se sta male la collettività, perché sta male la casa, sta male chi vi abita e la cura, ma non la terapia in senso medico-sociale, sociologico, economico, la cura, la sorghe, la preoccupazione di noi tutti per il benessere della casa e dentro il benessere della casa il benessere di chi vi abita, quindi i nostri fratelli, è credo la grande sfida etica che una società come la nostra, così potente, così potentemente avanzata, deve assumere perché scopre dentro di sé delle zone più o meno vaste, più o meno grandi, più o meno diffuse, che a volte non sono caratterizzabili secondo i criteri sociologici o socio-economici abituali di malessere di disperazione, di malessere, malessere, in cui si sta così male nel mio essere, cittadino di quella casa, ospite di quella casa, poi da far soffrire il corpo, da far soffrire le relazioni con gli altri, da far soffrire la mia anima. Grazie mille. Grazie mille.